Appena passato mezzogiorno del 14 aprile ci troviamo a Taverna di Montalto Fugo, un grosso centro della provincia di Cosenza in Calabria. Come da decreto del 10 aprile il punto Mondadori di Taverna risulta aperto. Consentire di aprire le librerie significa rincuorare e dare speranza a chi vive il risolamento in completa solitudine. Non c'è però gente nei centri cosentini, la normalità non tornerà subito, ci vorrà tempo soprattutto per le attività prima che si possa ritornare ad una situazione in cui aumentino i consumi delle famiglie. Il Covid-19 ha creato nuovi poveri soprattutto nelle regioni meridionali ma i comuni calabresi hanno già individuato le famiglie più bisognose e hanno iniziato la distribuzione dei buoni spesa così come erogati dal governo. Per il momento è tutto, Aurora Sansotari.